Nel 2022 finalmente riconosciamo che in Umbria ci sono infiltrazioni mafiose e infiltrazioni malavitose. Ma bisogna tornare indietro nel tempo per ricordare che già nel 2007 qualcuno aveva fatto presente quello che stava accadendo in Umbria. Poi il silenzio. Nobile Tasso, la storia è sempre un po' tortuosa ma allo stesso tempo è anche chiara perché bastava leggere la relazione della commissione di inchiesta parlamentare per capire che anche l'Umbria era interessata dai fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata. Allora il sottoscritto in quanto capogruppo di rifondazione comunista in consiglio regionale decise di chiedere ai colleghi consiglieri la firma per istituire la commissione di inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nella nostra regione. Fu una vicenda diciamo un po' complessa perché non tutti sostenevano l'idea che era giusto andare fino in fondo e fare chiarezza con una commissione di inchiesta. Anzi temevano che questa inchiesta o mettere l'accento sulle infiltrazioni delle criminalità potesse mettere in cattiva luce la nostra regione. Comunque alla fine di un percorso anche accidentato ce l'abbiamo fatta, abbiamo istituito la commissione, una commissione che nel susseguirsi delle legislature ancora esiste e ormai è un dato acquisito anche dalle inchieste della magistratura, dagli arresti che eseguono le forze dell'ordine che la nostra regione è purtroppo inquinata dalla presenza della criminalità organizzata. Quella vicenda fu per me anche un rendere omaggio a Peppino Impastato, ucciso 44 anni fa, la notte tra l'8 e il 9 maggio del 1978. Giornalista d'assalto che fondò Radio Out e titolare del programma Onda Pazza che sbeffeggiava politici a condiscendenti con la criminalità e mafiosi locali, a Cinesi e a Palermo. Nel 1978 si candida con democrazia proletaria al Consiglio Comunale e non finì la campagna elettorale appunto perché fu ucciso e fatto saltare in aria nei binari di Cinesi. La stampa, le forze dell'ordine, la magistratura parlarono di atto terroristico e che Peppino Impastato sarebbe morto mentre compiva quest'atto terroristico. Il fratello Giovanni e la madre Felicità invece lottarono per la verità. Fu costituito il centro siciliano di documentazione di Palermo. Addirittura un anno dopo, il 9 maggio del 1979, il centro siciliano di documentazione e democrazia proletaria dettero vita alla prima manifestazione nazionale contro la mafia a cui parteciparono 2.000 persone che erano poche ma che fu l'inizio di una grande stagione contro la mafia. Nel 1984 il giudice Antonino Caponnetto riconosceva la matrice mafiosa del delitto. Nel 1984 si riapre l'inchiesta e l'11 aprile del 2002 Gaetano Badalamenti veniva condannato all'ergastolo perché ha riconosciuto il mandante dell'omicidio di Peppino Impastato.